Mi chiamo Giordano Sergio, lo pratico Vovitam da circa nove anni e sono stato selezionato per il campionato europeo a Tenerife. Sono stato selezionato per la squadra di combattimento e all'inizio ero parecchio intimorito e titubante, ma adesso non vedo l'ora e sono in carico di energie. Pronto per l'europeo, configgere qualunque sia il mio avversario. Ci aspetto, ci impatto tutti quanti il team Italy, Forza Italia, ci vediamo! Sono Luca Fiorentini e sono stato selezionato per la squadra di combattimento degli europei. La convocazione, ho provato un po' di ansia, anche un po' di timore, ma comunque anche felicità e orgoglio di essere stato convocato. Proverò a vincere, a fare del mio meglio e comunque è importante il vostro sostegno, e quindi seguiteci e fate Team Italy! Mi chiamo Wynn, pratico Vovinambiat Vodau da circa tre anni e sono stato convocato dal team Italy per partecipare al nazionale di combattimento europeo. Quando sono stato selezionato, ho provato ansia, ma allo stesso tempo orgoglio. Grazie al mio maestro, sono riuscito a migliorare il mio modo di combattere, e di questo ne vado pieno e lo rinnovo. Adesso per me è il momento di andare, ma mi raccomando ti fate Team Italy! Uno, due, l'unio e le ripien! Forse di Italy! Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti Grazie a tutti